abbiamo delle carte con disegni geometrici particolari vedi ognuno ha una forma diversa dall'altra e realizzata con dei colori diversi i colori praticamente sono questi qui di questi cinque pennarelli giallo azzurro verde nero e rosso adesso io mi giro e tu dovrai scegliere tra questi disegni uno ne scegli poi utilizzando i pennarelli con i colori identici a quelli riportati sul disegno dovrai riprodurre tu stessa lo stesso disegno su questo foglio lo chiudi e lasci il foglio qui in vista ok e poi rimetti il disegno scelto tra gli altri lo mescoli fatto perfetto io l'ho preso hai scelto una carta tra queste carte ok la carta ovviamente è diversa ognuna dalle altre no questo è fondamentale è ripetuto il disegno su questo io farò lo stesso sto utilizzando quest'altro il foglio ok guarda giallo il foglio e e questo è il disegno che io ho fatto vediamo il disegno che tu hai scelto come vedi i disegni combaciano perfettamente